Hanno votato 113 compagni e compagni su un totale di 138 aventi diritto, quindi con una percentuale del 81,88%. Hanno dichiarato il nuovo voto favorevole 111 compagni e compagni, con una percentuale del non soffre del 23%. Due compagni e compagni si sono astenti, quindi proclama eletta Secretaria Generale della Camera di Lavoro, nostro comitale, con il trame di Bari, la compagna Gita Mucci. Grazie. 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 Grazie a tutti.